Troppo spesso le dichiarazioni di principio sulla necessità di tutelare l'ambiente sono accompagnate da qualche distinguo. Lo abbiamo visto nella vicenda delle trivelazioni in Adriatico, osteggiate dalle regioni interessate che si sono spinte fino alla richiesta di un referendum nazionale, sono al centro di un balletto di autorizzazioni governative concesse e negate che ha sullo sfondo il problema molto concreto dell'approvvigionamento energetico italiano. È concreta, come vedremo tra poco, è anche la contrapposizione tra salute e lavoro all'Ilva di Taranto, danni ambientali certi ma anche stipendi da salvare insieme a una prospettiva di sviluppo economico. Nessun distingue invece possibile per i veleni criminali della terra dei fuochi riportati alla ribalta dai dati epidemiologici che rivelano un'aumentata incidenza dei tumori anche tra i neonati, a seconda dei tipi di malattia dal 15 al 29% in più rispetto alle medie nazionali. Patrizia Gentilini, medico oncologo, buongiorno, dell'Associazione Medici per l'Ambiente, con lei commenteremo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla terra dei fuochi e sui tumori infantili in particolare in quelle zone. Patrizia Gentilini, finalmente l'Istituto Superiore di Sanità sancisce il legame che c'è tra inquinamento ambientale e malattie, tumori, è importante? Sì, direi che non ci sono dubbi, anche se per noi medici per l'ambiente questo rapporto è ben noto e consolidato da tempo e vorrei anche dire che l'Istituto Superiore di Sanità con questo rapporto sancisce un incremento sia dei ricoveri che dell'incidenza per tutti i tumori per i bambini da 0 a 14 anni negli adolescenti, nelle province di Napoli e Caserta, in particolare in quei comuni dove c'è maggiore pressione ambientale. E un altro messaggio molto importante dell'Istituto Superiore di Sanità è che dice che la salute dell'infanzia deve cominciare con la tutela del periodo prenatale, deve essere garantita alle donne in gravidanza di vivere in un ambiente salubre e quindi si riconosce l'importanza della vita intruterina nel determinare il nostro destino di salute sia da bambini ma anche da adulti. Questa certificazione è molto importante perché da anni noi seguiamo le mamme della terra dei fuochi ma questo legame diretto, di questo legame molto spesso si dubitava. Lei ha scritto anche una lettera al Presidente della Repubblica su questo, una lettera accorata. Sì, sì, il Presidente della Repubblica, Mattarella, nel suo discorso di fine anno ha fatto degli accendi molto importanti al problema dell'ambiente perché ha detto che questo è un problema che nessuno può più sottovalutare per le ricadute, per la salute di tutti, ha detto che non possiamo più continuare a sprecare risorse, a sprecare cibo. E voi cosa gli avete scritto? E noi gli abbiamo detto, abbiamo raccolto diciamo questo suo appello, questo suo messaggio e inoltre un centinaio fra medici, ricercatori e scienziati abbiamo detto noi siamo qui, noi vogliamo fare diciamo un programma di intenti per un'Italia sostenibile e responsabile perché le scelte che si vanno facendo nel nostro paese dal punto di vista anche energetico, dal punto di vista della gestione dei rifiuti ci sembrano in assoluta contraddizione con le stesse normative europee. Dicontilini, chiamata in causa su quei dati di aumento dell'incidenza dei tumori infantili, il lavoro del commissario è ingrato, lei cosa pensa di questo polo siderurgico? Ma io e tutti i medici per l'ambiente pensiamo diciamo che siamo di fronte a un accanimento terapeutico perché purtroppo noi pensiamo che la convivenza fra un impianto di questo tipo e la salute dei lavoratori e ovviamente anche dei cittadini di Taranto non può essere un obiettivo raggiungibile. L'acciaieria è il più grande impianto d'Europa ma non è il primo per produzione d'acciaio, bisognerebbe tener conto che già ora a livello mondiale la produzione di acciaio supera quelle che sono le richieste e quindi facendo anche, attuando al 100% anche le prescrizioni dell'AIA, i rischi per la salute sono assolutamente inaccettabili perché da 22.500 persone esposte al rischio anche solo per via inalatoria si passerebbe a 12.000. Addirittura ad esempio il benzo apirene ci sarebbero emissioni per 126 kg all'anno, aumentano le emissioni di benzene di croma esavalente. Tutto questo non è compatibile con la salute, bisogna lavorare in una prospettiva diversa, i posti di lavoro sono importanti, tutti questi soldi possono essere utilizzati per garantire il lavoro agli operai per una bonifica realmente degna di questo nome. Ecco, la dottoressa Gentilini cita spesso questa frase, le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni che stiamo facendo e allora lei di questi danni parla sempre? Certo, certo, questa è una frase che pronunciò Lorenzo Tomatis che è il nostro punto di riferimento, un grande ricercatore, scienziato che venne appunto a Forlì per un consiglio comunale aperto sul problema degli inceneritori. Perché le generazioni non ci perdoneranno? Perché noi stiamo contaminando l'acqua, la terra, il suolo e tutte queste sostanze spesso persistenti come diossine, PCB, metalli pesanti, si trasmettono, sono presenti nei nostri corpi e si trasmettono anche durante la gravidanza perché purtroppo la placenta non è una barriera impermeabile. Io ho sentito parlare dei costi e dei soldi investiti, ma voglio dire, non si tiene mai conto dei costi esternalizzati. L'Ox valuta in 1600 miliardi di euro all'anno i costi per l'inquinamento sia out che indoor. I costi per sanitari, per la mortalità prematura e per gli anni di vita persi dalla sola ILVA ammontano a 386 milioni di euro all'anno e non si tiene conto di tutte le attività produttive che sono sacrificate da questo tipo di sviluppo. Noi continuiamo su una strada, lei ha detto sì, non si può fare di più in questo sistema, ma da questo modello dobbiamo uscire. Questo è un modello di economia lineare che crea avvelenamenti, inquinamento e noi siamo per queste economie circolari. Lo dico io, non lo dice lei. In questa vicenda no, però lì ci sono. C'è un pezzo industriale di questo paese che vale, non so quanto, lei è più brava di me con i numeri, anche se vedo numeri molto in libertà quando si parla di alcuni argomenti, che va tenuto insieme. bisogna, bisogna, è il nostro eterno dibattito e naturalmente voi siete i due esponenti di questa linea. Adesso voglio riprendere un'altra lettera che lei con i suoi colleghi iscrissi a Papa Francesco per un'agricoltura, un ritorno a un'agricoltura naturale e anche lì i veleni che ci mangiamo sono tanti. Lizia Gentilini, oncologo, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente, voi starete col fiato sul collo a questo piano di risanamento ambientale. Indubbiamente, ma non solo a questo, ma a tutte le altre migliaia di situazioni di criticità ambientale che purtroppo sono sparse nel paese che conosciamo molto bene, perché vogliamo difendere la salute nostra e soprattutto quella dei giovani e dei bambini.